Consigliere Terranova, indigrazione di voto sulla delibera. Prego consigliere per tre minuti nella facoltà. Sì, grazie Presidente. Veramente solo due minuti per poter rispondere al saluto dell'assessore Colomban e ovviamente ringraziandolo da parte di tutti. Credo, abbiamo già sentito l'intervento del consigliere Pelonzi per il Partito Democratico, ma io a nome del Movimento 5 Stelle ringrazio l'assessore Colomban per il lavoro svolto in questo periodo che ci lascia un risultato su cui possiamo costruire e lavorare. Questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo perché chiaramente sulle cose bisogna essere seri come lo è stato in quest'anno l'assessore Colomban e quindi da questo risultato intermedio partire, risolvere tutti i problemi che alcune delle partecipate di Roma Capitale hanno. Con l'assessore Lemmetti abbiamo posto le basi per risolvere i problemi di ATAC che necessita sicuramente di un intervento importante. Quindi oggi il Movimento 5 Stelle può dire di aver concretizzato, grazie all'assessore Colomban, a tutta la Giunta, alla Sindaca e comunque al lavoro degli uffici che hanno partecipato, come al solito, alla realizzazione di questi risultati, un qualcosa che non serve all'Aggiunta, non serve a noi consiglieri ma serve soprattutto ai cittadini romani. Quindi ancora grazie con il voto favorevole per questa delibera del gruppo del Movimento 5 Stelle. Grazie mille.